Buongiorno signor Presidente, da Milano C2 le do atto della presenza dell'imputato Rina Salvatore, nato a Corleone il 16-11-1930. Non ci sono incompatibilità con l'imputato e sono garantite tutte le norme in materia di videoconferenza. Buongiorno. È difeso dagli avvocati Luca Cianferoni assente, avvocato Giovanni Anania, presente in aula. Per le parti civili costituite Elda Barbieri De Mauro, Franca De Mauro, Tullio De Mauro e per il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia è presente in aula l'avvocato Francesco Persimanno. Per la provincia regionale di Palermo è assente l'avvocato Pinditteri. È presente in aula il pubblico ministero dottore De Montis. Va bene, possiamo... Prego, avvocato Persimanno. Mi scusi, Presidente, se prima di iniziare la discussione mi autorizza il deposito della nota spese che la volta scorsa mi ero riservato... Andiamo in atto al verbale. Grazie. Possiamo dare corso alla prosecuzione della discussione e dare la parola all'avvocato Anania per l'intervento conclusivo nell'interesse dell'imputato. Prego. Signor Presidente e signori della Porta, è giunto il termine di questo lungo e tormentato processo. Io sono arrivato dopo poco, ma è iniziato il 2 aprile del 2006. In questo processo c'è stata ampia e libera partecipazione delle parti. Tutto ciò che ha chiesto l'accusa il pubblico ministero, la Corte l'ha consentita approfondendo tutti gli argomenti che venivano prospettati o che nascevano dall'esame di persone, di testimoni e fatti. Quindi nessuno si può dolere di questa istruzione. I fatti. Il 16 di settembre del 1970, Franca De Mauro rincasava verso le ore 21 unitamente al fidanzato. Videro un'automobile posteggiata prima del portone di ingresso dello stabile, indiachè videro sopraggiungere il padre, Mauro De Mauro, con la propria automobile. Loro entrarono nell'androne, chiamarono l'ascensore e, in attesa che l'ascensore scendessero, ritenevano che il padre sopraggiungesse per salire in casa insieme. C'era un ritardo. Come mai ancora non arriva? Francesca Di Mauro si affaccia al portone e vede che il padre, anziché scendere dall'automobile, vede tre o quattro persone, poi, secondo i vari interrogatori, diventano tre persone. Salire a bordo dell'autovettura del padre, che era una BMW, ed andare via, con il padre sempre alla guida dell'autovettura, della propria autovettura. Non si dettero una spiegazione lì per lì. La moglie, Elda De Mauro, che stava affacciata alla finestra in attesa del marito, vide sopraggiungere pur essa l'automobile, non notò l'altra automobile che era già posteggiata e vide andare via anch'essa l'automobile. Pensarono, lì per lì, che fosse saprigiunto un impegno, che avesse dimenticato a comprare il pane, il vino e quelle cose che indica, e aspettarono tutta la notte in grande trepidazione. E lì domani si decisero. Questa è una circostanza. La circostanza poi venne confermata dal fidanzato di Franca De Mauro, che, interrogato sul numero delle persone che erano a bordo, fu categorico e disse tre persone oltre Mauro De Mauro alla guida. Questo è l'elemento fondamentale, perché secondo me è l'unico elemento vero di questo processo. Gli altri elementi li commenteremo via via nella mia discussione. L'indomani chiamano il giornale, chiamano la polizia, intervengono tutti, Mauro De Mauro, incomincia questa affannosa ricerca, questo affannoso interrogarsi dei familiari sopra il giugno del fratello Tullio, questo spasmodico e comprensibilissimo stato d'animo dei familiari, che cominciano a interrogarsi che cosa può essere successo. E' stato sequestrato, si è allontanato volontariamente, che attività di professionale, di giornalista stava a quel tempo svolgendo, quali erano i presumibili contatti che aveva avuto e alla ricerca di quali cose, perché Mauro De Mauro era un'istituzione del giornale Lora, Mauro De Mauro, subito dopo la guerra, venne a Palermo, fu accompagnato dal ministro restivo, tutta la storia la sapete, entrò al giornale Lora e incominciò a scrivere e da giornalista appassionato si interessò di tutti i casi clamorosi che in quel periodo andavano succedendo o che venivano alla ribalta giudiziaria. Poi ne citeremo alcuni, come sono citati nel processo. Questa spalmodica ricerca, le forze dell'ordine, con Boris Giuliano e il compianto Boris Giuliano, si diedero subito grande impegno nella ricerca, ci furono dei sopralluoghi nell'ufficio, cercarono fra le carte, cercarono fra gli appunti, ripetirono molte cose. Nel frattempo si inserisce, addirittura all'indomani della scomparsa di De Mauro, si inserisce quel personaggio assai ambiguo, amiguo, che fu buttafuoco. Non si capisce come, quando ancora la notizia non era stata divulgata della scomparsa del sequestro, incomincia a chiedere, a tempestare la famiglia, la moglie dell'elda De Mauro, di domande. Ma ha lasciato questo? C'era una busta, una busta gialla, dal coso che poi diventa il barbiere, il barbiere che era vicino, in via stabile, vicino al giornale L'Ora, era una lettera semplicissima di raccomandazione. Si seguessero carte, si fermano. Incominciano gli interrogatori della famiglia De Mauro, perché questo è il primo trampolino delle indagini in ogni processo e nell'attività professionale svolta dal soggetto passivo. La famiglia De Mauro consegnò un nastro e incominciò a risalire nelle ricerche, nel tempo, sull'umore e sulle attività. Era successo che in quell'estate la famiglia De Mauro era andata in vacanza. La moglie era stata a Milano, la figliola Franca era stata in un paese lì vicino della Cecoslovecchia, non ricordo male, dell'Ungheria, non mi viene il nome. Erano rientrati e lui era rimasto a Palermo ad attendere al suo lavoro. In quell'estate Mauro De Mauro, quando la famiglia già si era ricomposta, dopo le vacanze, frequentava il locale balneare La Torre di Mondello. Incontrava degli amici, dei conoscenti, la signora De Simone, l'architetto, altre persone. Cosa che poi manifestò anche in famiglia, disse, annunciò platealmente che aveva scoperto un fatto eccezionale che avrebbe fatto tremare l'Italia, tutto lo Stato e che allo stesso tempo gli avrebbero dato la laurea onorissi causa in giornalismo, che avrebbe vinto il premio, ma non disse mai, e secondo me è stato assai sciocco e sprovveduto, non disse mai che cosa aveva trovato, che cosa aveva scoperto e in quale ambito del suo lavoro. Se era un lavoro di mafia, se era un lavoro che lui aveva avuto commissionato da Rosi per ricostruire gli ultimi giorni in Sicilia di Enrico Mattei, che poi, otto anni prima, era precipitato con l'aereo, si crea una babbele di piste, di indagini, fuorvianti molte volte, che spiazzarono gli investigatori, che andarono alla ricerca di tantissime cose, forse ne trascurarono qualcuna. Ci si cominciò a interrogare dei suoi rapporti con il presidente dell'ente minerario Verzotto, ci si imbatte in un tal avvocato Vito Guarrasi, ci si imbatte in sostanza nei cugini salvo delle esattorie comunali, ci si imbatte in sostanza in tutto lo scibile politico della Sicilia in quegli anni e in tutte le attività più o meno oscure, o se vogliamo a parer mio, più o meno losche del sottobosco politico, e ci si perde, ci si perde alla ricerca di notizie, ci si perde nella interrogazione e suggerimenti che pervenivano quotidianamente assai numerosi dai colleghi di Mauro De Mauro e non solo dai suoi colleghi del giornale L'Ora, ma del giornale di Sicilia, di Telestar e di tutte le testate giornalistiche del nord Italia che si erano interessate o di uno scandalo o dell'altra vicenda o della scomparsa di Mauro De Mauro e come dice, ognuno disse la sua, la corte è andata appresso a questi giornalisti, ha cercato di cavarci qualche cosa, qualche elemento, però non è approdata a nulla, anche perché il giornalista non è testimone, non è persona informata sui fatti, quindi siamo quasi al limite della ammissibilità della prova, perché il giornalista riferisce fatti che altri gli hanno riferiti e che cosa ci aggiunge il giornalista di suo, questo lo sappiamo, io per la verità ho intervistato per processi, per motivi di lavoro, non ho mai detto tutto e non ho mai detto la verità ai giornalisti, quindi li ho imbrogliati, li ho ingannati e gli altri che cosa hanno fatto a loro volta? Hanno detto tutto, hanno detto completamente la verità, sì che egli può essere un testimone del relato di ciò che gli ho detto io, è una cosa assai ineffabile, è una cosa assai impalpabile. la polizia valutò tutti gli elementi, valutò gli appunti che erano stati preparati per il regista Rossi e io vi dico la verità che attraverso le varie dichiarazioni di Rossi, di Bruno, il collega di stanza, di Mauro De Mauro, il quale diceva, Mauro De Mauro mi fece vedere questi appunti, li spedì, Rossi dice io non li ho mai rissevuti, Colantone dice non sono mai pervenute, facevamo sempre solleciti, poi spunto un giornalista a Petroni e Zurlino e gli abbiamo dato noi a Rossi questi appunti. Si dubita che gli appunti trovati, manoscritti e un foglio da tiro scritto nel cassetto del giornalista presso il quotidiano Lora, se fossero i suoi autografi o se erano stati manomessi. Il famoso nastro che De Mauro, ossessivamente dice la moglie, ascoltava a casa ma non sa il contenuto né a che cosa si riferisse, questo venne a mani, anche questo venne nelle mani di Boris Giuliano e di Bruno Contrata che lo collaborava in questa indagine. Ma ecco era Bruno il collega di stanza giornalista al quale Mauro De Mauro aveva confidato sì l'incarico ricevuto da Rossi e gli appunti che avrebbe dovuto, dice, di aver trasmesso, ma gli consigliò, atteso questa notizia epocale, questa bomba che De Mauro aveva scoperto, gli consigliò di andare dal procuratore della Repubblica a Scaglione, che era il vertice, il massimo depositario degli investigatori palermitani, era procuratore capo della Repubblica. Mauro De Mauro gli riferì che c'era andato, che gli aveva tutto confidato, quindi il procuratore Scaglione era depositario di questo grandissimo segreto, ma non ha compiuto nessuna azione, nessuna attività giudiziaria, non ha imbastito un processo, non ha arrestato nessuno, nessuna attività basata sulle confidenze di Mauro De Mauro, che cosa è così grave, da far stremare l'Italia, da mettere tutto lo Stato fuori, sicuramente qualche cosa avrebbe fatto Scaglione, sicuramente avrebbe avuto qualche iniziativa in tal senso. E invece silenzio assoluto, si interrogano le persone, questo va da sé. Arrivato a un certo punto, la famiglia incomincia a lamentare un calo di tensione nelle indagini. Calo di tensione perché la prospettiva, l'obiettivo era il colpo di Stato di Valerio Borghese o la morte di Mattei non era stata accidentale, ma era stato un omicidio. E fino ad ora questo grossissimo nodo non siamo riusciti a sbrogliarlo. Ci fu un calo. E allora cominciarono a pensare subito all'omicidio di Stato, al fatto politico, interventi dei servizi segreti che io non trovo. un depistaggio, un ordine superiore proveniente dallo Stato di cessare le indagini, di contenere le indagini, di bloccare le indagini. Boris Giuliano non si cambiava il vestito fino a quando non aveva scoperto l'assassino. Boris Giuliano allora si sarebbe dovuto vestire per tutta la vita con lo stesso vestito. il generale dalla Chiesa che allora era colonnello a Palermo intervente nelle indagini. Vivissima attività svolse il colonnello russo dei Carabinieri e interrogarono i familiari, interrogarono persone, allertarono e pressarono le fonti confidenziali dalla Chiesa concluse straramente io ci credo poco al Tullio De Mauro fratello dello scomparso il generale della Chiesa mi disse c'è mafia non c'è e insomma questo è il colmo che il generale della Chiesa che era stato capitano dei Carabinieri a Corleone che si era battuto tutta una vita contro la criminalità e ci ha lasciato anche la vita per la criminalità che abbia potuto rispondere alla mafia non c'è mi sembra una interpretazione o un riferimento inconcepibile e incredibile che provenga da parte del generale dalla Chiesa come mi sembra assai strano che anche il colonnello russo e l'arma tutta dei Carabinieri ritenevano che alla base di questa scomparsa di questo sequestro ci fosse una scoperta da parte di De Mauro un'indagine condotta da De Mauro o direttamente o tramite informatori su un traffico e una base di sbarco di narcotici si andò in un posto indicato poi si disse che in realtà in quel posto non era uno sbarco ma si doveva costruire un grande albergo che poi non si costruì nemmeno il generale della Chiesa era al limite della risata quasi di fronte a questi risultati di fronte a cose di tutti disse mal dello Stato delle forze dell'ordine commissari capitani carabinieri cancellieri magistrati ma sulla base di che? dell'abbassamento del tono delle indagini ma noi lo abbiamo conosciuto io l'ho conosciuto in tutti i processi ci sono stati a Palermo nella seconda guerra di mafia trasciaggi e morti ammazzati 1200 omicidi io li ho fatti tutti conosco bene questa storia conosco bene l'impegno del commissario Boris Giuliano che ci ha lasciato la vita conosco benissimo l'impegno del generale della Chiesa che ci ha lasciato anche lui la vita conosco moltissimo anche l'impegno di alcuni magistrati come Terra Nova di allora che entro pure in questa vicenda sia pure per consigli sia pure per dire la sua sia pure per dare qualche indicazione e sono tutti onorevoli funzionari dello Stato che hanno combattuto fino alla morte non mi si venga a dire che Boris Giuliano è il generale della Chiesa che poi ebbe il grande esploano in nord Italia e debellò i brigatisti non mi si venga a dire che il generale della Chiesa era persona che si poteva sottomettere al punto da deviare le indagini da depistarle verso la droga o da farsi imbavagliare così pure Boris Giuliano non posso dire alcimenti di Bruno Conciata che ebbe una piccola parte vorrei dire in queste indagini in questo procedimento ma non voglio affrontare discorsi appunto perché poi successivamente ebbe la sventura di incontrare dei collaboratori di giustizia e fece una cattiva una cattiva conclusione della sua professione e delle sue e della sua vita i trascorsi si indagò sui trascorsi della vita giovanile di Mauro De Mauro era stato un repubblichino era appartenuto alla decima massa erano tempi di sbandamento tempi politici partecipò dice la relazione alla sagge di Roma partecipò e faceva parte dei servizi di informazione dei nazisti fece arrestare della siamo in tempo di guerra non che in tempo di guerra è consentito già dire la patria o fare lo spionaggio nei confronti degli avversari dell'Italia questo mai della nazione anche perché noi quest'anno festeggiamo il centocinquantesimo anno della fondazione dello Stato e siamo tutti affratellati e siamo tutti entusiasti di questo evento quindi quando sentiamo dire che c'è stato uno che ha lottato ha combattuto o ha fatto svolto qualche attività nei confronti dell'Ottato non ci suona bene ma dico quando è venuto in Sicilia al giornale L'Ora pare addirittura che abbia cambiato ideale politico tanto che il giornale L'Ora era un giornale di proprietà del partito comunista sovvenzionato dal partito comunista di idee tutte di sinistra eppure di sicuro lo accolse ma non è che lo accolse perché glielo portò il ministro Franco restivo ma lo accolse sicuramente perché aveva scoperto delle doti giornalistiche professionali in questo giovane e quindi Mauro De Mauro aveva scettissimi rapporti con Serafina Battaglia si frequentavano molto perché gli forniva tantissime notizie che si intendeva vendicare con quella sua collaborazione dell'uccisione del figlio Salvatore Lupo Leale e del convivente Stefano Leale che erano stati uccisi nel passato si interessò di una grossa frana che era avvenuta a Grigento i trascorsi di De Mauro fecero aprire una maglia di indagine sulle frequentazioni successive di De Mauro a Palermo con gente che poteva essere di estrema destra o contatti con Valerio Borghese perché a quel tempo si stava preparando il colpo di Stato proprio all'iniziativa di Valerio Borghese e di altri personaggi illustri e allora attraverso i legami che De Mauro poteva aver conservato o coltivava qui tramite Micalizio Giacomo Micalizio che era un amico di famiglia un ragazzo poi diventato medico analista che poi fu arrestato in occasione del fallito colpo di Stato si cercò di dare una causale a questa scomparsa ormai indubbiamente omicidio con soppressione di cadavere come alla ricerca di una causale nel senso che De Mauro essendo vicino o proveniente da quell'ambiente avesse potuto continuare nelle frequentazioni e negli ideali al punto da aderire al colpo di Stato o essersi interessato al colpo di Valerio Borghese mi pare che per quello che possano valere ma in questo campo valgono le notizie fornite dai colleghi e da tutti non solo del giornale L'Ora ma del giornale Sicilia e di altri giornali italiani visto che Mauro De Mauro aveva cambiato completamente mentalità che pensava al suo lavoro a mantenere la sua famiglia ed era un bravo giornalista un giornalista d'assalto un giornalista d'azione che si immergeva profondamente nella notizia però erano notizie non erano prove non erano dichiarazioni dirette che lui riceveva nelle interviste o che gli raccontavano non ci fu mai nessuno che gli disse guarda che quella tale rapina l'ho fatta io quindi lui poteva diventare un test scomodo o un test di riferimento lui raccoglieva notizie raccoglieva notizie si è andata dietro al colpo Valerio Borghese e allora si disse ha chiamato la figlia Iunea Valeria come il principe Borghese ciò dimoscerebbe una affezione alla sua vecchia maniera di pensare alla sua vecchia appartenenza all'estrema destra la moglie dice sul punto non lo frequentavamo quando è morto mio marito poi è arrivato un biglietto di condorianze da parte di questo che si meravigliava ma non se lo ricordava che era stato che aveva appartenuto alla decima massa di cui lui era il comandante sovviene un test che stava passando forse per caso non so come spunta questo signore era uno che era stato un operaio per le zone lì del Leni di Gela e di cose un nome lo potrei dire ma non è di nessuna rilevanza si volle conoscere Mauro De Mauro e ci andò a conoscerlo al giornale successivamente dopo alcuni anni la stampa diffuse che c'era un convegno una riunione da parte di Valerio Bortese al cinema Massimo al cinema Smeraldo scusate di via Mariano Stabile e il cinema è proprio di fronte al giornale loro e lui vi andò vi andò ingorgiò Mauro De Mauro lì davanti si soffermarono cercò di ricordargli che lo ammirava che quello che gli aveva detto prima improvvisamente spuntò uno Mauro De Mauro battea i tacchi si mise sull'attenti disse comandante ed entrarono insieme al C mi pare troppo poco signori mi pare troppo poco per dire per ricavare da questo da questo racconto che Mauro De Mauro fosse ancora legato al Principe Borghese e che lo seguisse nella sua iniziativa rivoluzionaria gli stessi elementi mi provengono dai giornalisti mi pare che si chiama Petroni che dal capo dell'antimafia aveva avuto notizia che si doveva svolgere un colpo di stato e che gli mandò una relazione addirittura e lui partecipò lui stesso a una riunione a Genova tutto quel famoso ciacchiggio che voi ricordate per sapere e lì incontrò il generale che era stato promosso e che faceva festeggiava il trasferimento incontrò alcuni che dovevano essere dei ricchi industriali incontrò tanti personaggi poi un avvocato gli confidò che quella non era l'unica riunione alcuni si chiamano grazie presidente io con il 9 ci faccio poco dovrei 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 prendere dovrei prendere ma vi farei solo perdere tempo voi siete molto preparati sapete rimane registrato come Colantoni si chiama notarianni ma insomma voi conoscete il processo specialmente il giudice Alatere si è dimostrato un profondo conoscitore della politica siciliana io pur essendo ragazzino tante cose sì mi sovviene un ricordo ma non così precisamente tanto che mi sono domandato ma quanti anni ha è sicuramente molto più giovane di me è sicuramente molto più giovane di me sono sicuro quindi si segue questo giornalista alcuni segue questa traccia del colpo di Stato attraverso nel suo snodarsi attraverso varie città d'Italia arrivato a certo punto crede di avere trovato il grosso scuppo scrive al suo giornale a Milano gli pubblicano il primo articolo il secondo articolo non glielo pubblicano più ne nasce tutta una una serie di interpretazioni un'impiegata del giornale disse che aveva visto questi appunti questo articolo questa pubblicazione sulla stanza del direttore generale di Cefis che era stato informato Cefis che nel frattempo era diventato il vice era diventato il presidente dell'Eni si innesca tutta quella quando poi invece si sentono gli altri due giornalisti che con Arturi lavoravano una cosa molto semplice chiedono una spiegazione molto semplice si pubblicano un articolo il direttore generale ci chiamò il direttore non generale il redattore campo ci chiamò ma voi insistete su questa cosa a me vale la pena perché noi perdiamo migliaia e migliaia di bigliettoni perché l'Eni ci toglierà la pubblicità si rivolge al nostro giornale per la pubblicità quindi si sbonta la bolla della imposizione di Cefis come presidente dell'Eni dell'intervento dei servizi segreti oh santo Dio ma dappertutto sono questi servizi segreti una volta un mio cliente era come il pietosino dicevo io come il prezzemolo ma questi sono come il sale sono in tutte le pietanze anche nei dolci i servizi segreti quando ci si trova in Italia si è preso questo cattivissimo vezzo quando ci si trova davanti a una cosa più grande non più grande di noi a una cosa che non sappiamo risolvere a una cosa che rimane nascosta che magari sarà una cosa semplicissima che noi abbiamo visto ma non ci abbiamo connesso tale importanza si chiamano in causa i servizi segreti i servizi segreti a tutto spiato si chiamano in causa gli americani perché c'era stato Eni di Mattei li aveva surclassato nella concessione dei pozzi peggioliferi in Oriente è certo che li aveva surclassati aveva surclassato le sette sorelle aveva messo in ginocchio l'attività di ricerca della Francia che su questi pozzi peggioliferi tanto mirava e come perché perché Enrico Mattei era fraterno amico di Rezza Paleri quando c'erano le riunioni in Iran lo scia di Persia intendo dire tutti gli altri esponenti e rappresentanti delle altre nazioni dopo la discussione venivano licenziati Enrico Mattei invece sedeva in grande confidenza a tavola con il re più antico del mondo con lo scia di Persia che discendeva da Ciro Ciro il grande Ciro Carmise e Persia aveva questa grandissima confidenza questo grandissimo rapporto confidenziale ecco perché fu prediletto ma era anche una persona che sapeva molto ben fare era una persona evidentemente molto intelligente da quello che io ho potuto leggere senza volere per questo approfondire perché non sono questioni che mi interessano né che mi riguardano e allora colpo di Stato borghese se no resta la pista Mattei la pista Mattei però legata a quella richiesta che Rosi gli aveva commissionato per il film e allora dicono tutti Verzotto in prima linea dicono anche i familiari in un certo senso Mauro De Mauro fu indirizzato per avere notizie su questi ultimi giorni di Enrico Mattei in quel paesino di Gagliano fu inviato da Guarrasi Davito Guarrasi che a quanto pare era un grosso avvocato più manager o commercialista che avvocato come noi che stiamo in tribunale ma non fu ricevuto da Guarrasi fu ricevuto a malappena da D'Angelo e subito licenziati ma ora io dico andiamo al di là di quello che dice Verzotto gli altri andiamo a domandare a Nistico siete andati a domandare a Nistico che era il direttore del giornale quando c'è stata la visita di Enrico Mattei in Sicilia Enrico Mattei inviò là Mauro De Mauro ora è stato Dio allora perché Mauro De Mauro se era presente avrebbe dovuto sarebbe dovuto andare in giro e a domandare ve lo dico alla siciliana fumare navite uova se lui c'era stato aveva scritto degli articoli c'era stato ce lo dice anche un altro giornalista io il nome non lo dico voi lo sapete interrogato alla fine quasi dell'istruzione il quale disse che era un cronista sportivo dice sono andato lì a Enna e ho trovato Mauro De Mauro che era lì da due giorni insieme all'autista morti di freddo intirizziti era pieno inverno che erano stati mandati per cercare ulteriori notizie e per scrivere ulteriori articoli sulla scomparsa sugli ultimi giorni non sulla scomparsa sugli ultimi giorni di permanenza di visita in Sicilia di Matteo quindi perché dovevo andare da D'Angelo perché D'Angelo in occasione della partenza di Mattei aveva detto no io non ci posso venire a Milano ho degli impegni lasciatelo andare a Mattei perché la folla lo tratteneva lasciatelo andare perché deve andare a Milano a tante altre cose perché qual era il motivo che cosa poteva sapere D'Angelo allora D'Angelo sapeva che l'aereo di Mattei doveva cadere allora questa è la conclusione che se ne trae D'Angelo sapeva che l'aereo di Mattei doveva cadere all'ultimo momento ha renunciato il viaggio no non è possibile non ci credo assolutamente perché non ci sono elementi fattuali elementi di prova io sono abituato a discutere con le prove in mano davanti alla corte d'assisi non con i pensieri o con i rapporti che provengono da fonti giornalistiche rispettabili irrispettabilissime perché hanno innanzitutto il diritto di esercitare la professione di guadagnare il dovere di informare l'opinione pubblica ma non li possiamo prendere come persone informate sui fatti dice il nostro nuovo codice non li chiama più testi ma li chiama persone informate sui fatti e riferiscono che cosa riferiscono Guarrasi non lo ha ricevuto Vito Guarrasi lui invece aveva un grande rapporto di frequentazione e di amicizia con Graziano Verzotto ora c'è l'avvocato Lubis nella memoria che ha scritto non è che non è che è andato tanto lontano non è che certe cose le ha sbagliate completamente ma quando scrive al giudice e il struttore chiama Verzotto e domandagli perché quando il suo Dio che era Mattei è venuto in Sicilia ed era lì che discuteva che barattava con la popolazione in rivolta io ti do il pagione ma tu che cosa mi dai e ti faccio la lana e rossi ti do la concessione anche di costruire i pantaloni in questo paesino di Gagliano e tu dove te ne vai Verzotto te ne vai a fare una passeggiata con l'aereo di Mattei che da lì lo spostano a Catania perché era un aereo particolare e poi e quindi non partecipi tu sei il pagione di casa tu sei il rappresentante dell'ENI in Sicilia tu devi per forza essere presente avevo una riunione del comitato provinciale della democrazia cristiana a Siracusa lo dissi a Mattei me ne sono andato non è una giustificazione non è una giustificazione logica né attendibile avrebbe dovuto essere lì perché si discutevano problemi di giocarburi perché si discutevano problemi che riguardavano tutta l'ENI e riguardavano quello che poi ne è subito nato l'ente minerario da lui gestito e preseduto con tutte quelle ramificazioni di Sochimis e tante altre sigle che furono la rovina della Sicilia e la palla al piede dell'Italia quindi Mauro De Mauro era in grande amicizia con Verzotto e il quale arrivato a un certo punto iniziò anche a aiutarlo a fargli fare qualche lavoro gli preparava qualche relazione qualche discorso gli fece fare gli diede un incarico per scrivere una serie di articoli sulla su Termini Merese sulla zona industriale di Termini Merese che l'ente minerario aveva occupato facendo venire delle ditte del nord come quella della fabbrica del bicarbonato e come tante altre tranne la Fierte che ricevuti i soldi dalla regione siciliana i contributi per la non la aprirono mai rimasero dei monumenti che deturpano l'ambiente Terminese ecco perché gli abitanti di Termini fecero allora la rivolta e la stanno facendo anche ora perché li vogliono dopo aver speso tanti sudatissimi denari dei contribuenti siciliani e anche italiani forse sono state mai utilizzate e abbandonate e che costituiscono scempio costituiscono scempio per il paesaggio una deturpazione del paesaggio e di questo era fiero Perzotto era fiero dei fondi neri dell'ammanco dei fondi della EMS dell'ente minerario era fiero di avere sottratto tutte quelle somme di Canaro era stato coscetto a darsi alla latitanza prima in Egitto e poi a Parigi dove dice mi incontravi con il questore di Palermo Lidogno e poi si girò dall'altro lato mentre lui era la lante e si fece finta che non lo aveva fatto ci vado a raccontare un altro lo abbiamo conosciuto il questore Lidogno lo abbiamo conosciuto non era persona di questo genere o da assumere un comportamento così svagato e così anche se si trovavano a Panicci perché questa indagine precessuale non è andata alla ricerca e all'approfondimento dei rapporti dichiarati dallo stesso Verzotto e di collusione con la mafia con la mafia nissena con la mafia di quella zona dove c'erano Gela dove c'erano l'idrocarburi dove c'erano i pozzi petroliferi dove c'erano tutta cosa i suoi rapporti ah un agnellino diventa quando parla di Beppe di Cristina lo assistente fu testimonio di nozze al magimonio di Beppe di Cristina e insieme alle nozze l'altro testimonio chi fu? Peppino Calderone di Catania membro della commissione provinciale e c'è un altro passo che lui candidamente confessa dice no io il magimonio il bar no non è che lo frequentavo quando Beppe di Cristina voleva l'impiego io lo mandai via però Beppe di Cristina era impiegato di una succursale dell'ente minerario Calderone mi venne una volta perché voleva la concessione di un distributore di benzina non gliel'ho dato mi sono guardato bene dal daire però Peppino Calderone che ve lo dico io che ci sono stati aveva un grossissimo distributore di benzina all'uscita di Catania un dato di fatto un dato vero tutti lo sappiamo tutti lo sanno il sequestro il tentativo di sequestro di Verzotto fu un tentativo vero o fu un tentativo simulato fu allora io lo ricordo venne da mio padre Nino Badalamenti cugino di Caetano e portò un avviso un decreto di citazione o un mandato di comparizione perché sospettato di avere partecipato al sequestro al tentativo di sequestro di Verzotto perché forse in Italia in Italia è questo il destino degli italiani essere persone oneste persone giuste si dice è un dovere ma quando se ne commettono tanti di questi fatti si diventa evidentemente importante si diventa presidente capitano di industria presidente di deputati senatori quindi secondo me è un cattivo esempio che noi loro non noi hanno dato alle giovani generazioni non ci sono più alle giovani generazioni che corrisponde poi tutto sommato a quel motto chi ruba poco va in galera chi ruba molto fa carriera si è fatta nessuna indagine su quello non si è fatto non si è approfondito egli però dice Verzotto mi si rimproverò da parte di Beppe di Cristina per aver detto a Mauro De Mauro che lo scrisse di un'indagine che la mafia stava facendo si interessava di traffico di stupefacenti di droga e di sigarette mi disse non lo dire più questo perché io con i miei compari davanti ai miei compari ti ho giustificato a Mauro De Mauro l'ho fatto uccidere dice lui lo dice nella sua dichiarazione sono delle dichiarazioni semente sono delle dichiarazioni che innescano che contengono un altissimo potere di un uomo Verzotto suo potere economico suo potere politico che gli consentiva di avere rapporti con persone di altissima mafia di allora erano i più alti Peppino Calderone era il presidente del Ciumvirato Beppe di Cristina era cognato di Stefano Bontate perché era fidanzato con Margherita poi il magimone non si è fatto ma rimassero comunque molto amici aveva continui rapporti con Stefano Bontà continuissimi rapporti con Tanino Badalamenti molti più ancora con Don Peppino Calderone e quindi sta vicinanza questa vicinanza di Mauro De Mauro Mauro De Mauro un giorno invitò a casa sua con la sua famiglia la moglie e le figlie invitò Verzotto a pranzo gli lesse quali erano gli appunti degli appunti che aveva rilevato che cosa erano questi appunti che cosa contenevano che uso ne ha fatto il suo confidente di questa confidenza della lettura di questi altri non lo sappiamo e non lo sapremo mai perché ormai sono tutti morti e non c'è possibilità di scoprirlo certo Vito Vito Garrasi non lo volle sdegnosamente ricevere invece Verzotto lo intrattenne in amicizia e per tutto era legato a doppio filo con Vito Garrasi e aveva un grossissimo potere su Vito Garrasi perché se voi ricordate come sicuramente lo ricorderete c'era un grandissimo contrasto del presidente della regione d'Angelo con Vito Garrasi Vito Garrasi era un uomo importante non c'è niente da fare da quello che leggo era un uomo importantissimo quindi si era superiore al presidente della regione che era il presidente della massima espressione della regione siciliana eppure fu Verzotto che disse a Mattei a Vito Garrasi lo dobbiamo mettere da parte non deve essere più il rappresentante dell'Eni il consulente dell'Eni il legale dell'Eni perché dobbiamo fare contento d'Angelo e di fatti così fu però sono sempre giochi di potere perché subito dopo che fu nominato d'Angelo ecco perché anche partecipò e partecipava alle riunioni morto Verzotto morto Mattei morto Mattei Cefis che lo sostituì immediatamente rinominò Vito Garrasi e questa volta d'Angelo o non c'era più ma comunque non disse più niente d'Angelo ce l'aveva anche a morte con i fratelli Salvo per la concessione dell'esattoria dove si riscuotevano agi superiori a quelli degli altri comuni delle altre regioni delle altre cose quindi aveva anche questa rivalità ma dico e quali sono allora gli elementi che noi che voi attraverso questa lunga indagine avete messo sul piatto sono elementi di prova sono elementi che possano condurci a una causale di questo delitto quelli del colpo di Stato no pare anche perché il colpo di Stato non si verificò neppure questo di Mattei perché si dice attentato di Enrico Mattei ma fino ad ora non c'è stato nessun tribunale però che ha trovato dei colpevoli o che ha statuito con una sentenza immune da vizie e da censure e con ragionamento logico accettabile da tutti che Enrico Mattei il suo aereo fu sabotato che Enrico Mattei fu ucciso e di fronte quando ci sono questi morti importanti si cominciano a diffondere delle voci dei sospetti dei pensieri come al solito ci sono gli innocentisti e i colpevolisti non c'è niente da fare ci saranno sempre l'opinione pubblica è e allora l'opinione pubblica non può essere causale di un omicidio non può essere causale la voce popolare la voce popolare non è assolutamente ammessa come prova nel processo ma neppure come indizio la voce popolare può indirizzare l'inquirente il poliziotto il carabiniere a svolgere un dato percorso una data indagine ma mai costituirà la prova ecco perché dico questo processo che cosa singi singi che cosa c'è omicidio di stato omicidio politico omicidio politico omicidio di stato sì c'erano le nazioni le nazioni straniere che avevano un interesse a questo petrolio quindi un contrasto un contrasto ma viva Dio disse la moglie la moglie di Mauro De Mauro quando a tavola commentavano un fatto simile dice ma dice morto un presidente si parlava della scomparsa di Enrico Mattei della morte di Enrico Mattei ma dice tutta questa importanza dice perché mi pare che morto un presidente se ne fa un altro dice come è stato per Kennedy dice hanno ammazzato il Kennedy dice è succeduto è succeduto Lyndon Jones dice tutto sta a fare di stato poi tutto sommato muore un papa e se ne fa un altro non ci vedo tanto di sospetto tanto di rosco sia nell'attività lupis disse altra cosa che Mattei in Sicilia nella sua visita si doveva incontrare con degli emissari e saccomunitari che dovevano ricevere delle ingenti somme per fare un colpo di stato nel loro paese si erano insufolati nell'almente algerino per l'acquisto del metano da portare in Sicilia e questo ebbe grandissima parte per zotto ma io da qui da queste chiacchiere da questi riferimenti mi sento assai poco tranquillo di avallare una tesi di causale della scomparsa di Mauro De Mauro non lo so non lo so scartata la causale del colpo di stato scartata la causale della scomparsa di Matteo come omicidio considerandolo come omicidio non mi pare che al di là delle impressioni più o meno suggestive perché guardate che moltissima suggestione ha causato il diario della figlia di De Mauro moltissima suggestione ha sollevato sia nei giornalisti sia negli organi inquirenti sì ebbero massimo rispetto dei suoi affetti massimo rispetto dell'amore verso il Padre ma riferirono delle opinioni talmente incontrollabili talmente incontrollabili che erano semplici sospetti semplici sospetti di una proveniente da una ragazza che non conosceva l'attività del Padre perché santo Dio siamo a tavola una famiglia si preparavano le nozze di Franca il Padre stava accennando a questa sua importantissima ricerca ritrovamento o pista non si sa suona il campanello alla porta tutti si alzano Mauro De Mauro resta da solo a tavola nessuno si piglia la briga e dice papà Mauro ma che cosa volevi dire che cosa hai trovato lo stesso con Alessi Alberto Alessi lo andò a trovare qui alla Sochimes in via Stabile devo parlare immediatamente con tuo padre ma mio padre è a Bruxelles vai a Bruxelles piglia il tuo padre vado all'estero è una cosa urgentissima è una cosa gravissima è una cosa che si deve fare ma che cosa vuoi Alberto telefonò al suo padre dice ma che cosa vuole dice che cosa mi deve dire dice forse la sciaggia di Portella della Genera mi altro che archeologia allora faremmo noi se andiamo fino a Giuliano fino alla banda Giuliana altro che archeologia non lo vuole dire ecco perché dicevo è stato poco intelligente poco a Porto perché il nemico non lo si sconfigge il pericolo non lo si sconfigge con il silenzio il nemico va immediatamente messo in vista additato cosicché non si può più muore questa era la mostra intelligente se lui veramente aveva scoperto però c'è stato qualcuno che disse era un esagerato specialmente dice se aveva bevuto qualche bicchiere in più era ingrandiva le cose c'è stato qualcuno qualche suo collega che ha detto anche questo ma sto fatto gravissimo che poi non è successo non è successo niente non è che si è verificato alcunché da questa sua scoperta non è che c'è stato un attentato hanno ammazzato qualcuno c'è stata una sciaggia c'è stata un'epidemia causata mediante virus iniettati ai bambini non è successo niente è solo scomparso lui è solo stato soppresso lui questo è quello che mi induce a ritenere che non c'era proprio niente che non aveva scoperto proprio niente non so io non lo trovo quindi devo dire per forza di fronte all'evidenza che non c'è perché nessuno di queste persone alla quale lui confidò il premio la laurea il scoppia una bomba l'Italia nessuno di questi ha saputo riferire né di che cosa si trattasse né ne manco un vago dubbio un vago sospetto tutti hanno brancolato e brancolano come noi nel buio brancoliamo nel buio ecco perché non mi sento di avallare che questo è un processo politico è un processo di Stato anche perché non credo assolutamente che quelle persone come ho detto prima quegli grandissimi seguggi senza offesa si siano fatti mettere il bavaglio da qualcuno da qualche generale o dai servizi o da qualche altro non erano toccate le autorità politiche italiane del nostro governo non erano sfiorate né di collusione né di interessi né di partecipazione né di altre cose dove si attacca questo processo politico è un processo di politica giudiziaria è un'altra questione non è di politica è politica giudiziaria può essere politica giudiziaria nel senso che diceva i cianferoni Totorrina ha collezionato tanti argastoli non si trova nessuno e fa il parafulmine ma questo da un altro punto di vista è un'altra è differente questione da classificare questo processo questo scomparsa e questo omicidio come omicidio di Stato come un delitto politico non c'è nessun elemento c'era in Sicilia il marasma il giudice Alatele si è divertito nella sua ricerca ha ritrovato i milaziani ha ritrovato i coralli i corrao ha ritrovato tutto c'era una situazione assai instabile in Sicilia De Mauro si era occupato anche di politica aveva scritto anche argomenti politici e poi veniamo all'altro capitolo all'altro capitolo all'altro sospetto che legherebbe la scomparsa alla mafia a Cosa Noscia allora non si chiamava Cosa Noscia ma si chiamava soltanto mafia qual è questo elemento di congiungimento l'elemento di convincimento è che non si riescono a spiegare i fatti e allora si trova come capo espiatorio alla mafia che può sopportare capace di fare qualunque delitto capace di sopportare qualunque pena e questo è il concetto io di elementi che possono condurre a questa affermazione sono legati a che cosa? al fatto che scriveva sulla stampa articoli contro la mafia era il suo dovere era il suo mestiere era il suo mestiere un cittadino da bene evidentemente non può fare gli elogi della criminalità organizzata qualunque sia la denominazione di origine qualunque siano le intenzioni di quel dato sottalizio perché un sottalizio è e quindi di per sé riprovevole e condannabili ma dico dal 63 la cosiddetta e famosa Srage dei Ciaculli la famosa Giulietta Bomba dove persero la vita il tenente Marausa e i carabinieri che con lui erano gli artificieri e questo fu un gesto avventato perché il maresciallo disse non lo toccare il pulsante del portabagaglio invece lui sentivamente toccò il pulsante e fece il contatto e scoppiò la bomba e morirono tutti ma l'accortamento ma l'accortamento è un comportamento da incompetente perché non doveva morire nessuno non sarebbe morto nessuno se fosse intervenuto l'artificiere evitando e smontando il contatto che era sotto il portabagaglio non sarebbe morto nessuno vabbè le cose succedono ci furono gli arresti ci furono la guerra la famosa guerra di mafia c'è stato uno sterminio a Palermo alleanze cambiamenti seguirono gli arresti la repressione dello Stato è inevitabile giunge inesorabile ma giunge e allora la mafia si è sciolta erano tutti carcerati poi fra l'altro la mafia si è sciolta e rimasero tutti per un grandissimo tempo in casa sì non vi dico che i mafiosi che non furono toccati dall'anno arresto diventarono angioletti o agnellini vi dico solo che stavano molto nascosti nel loro ambiente nel loro quartiere nel loro paesino e vi dice Antonino Calderone dice secondo quello che sentivo dire a Tanino Badalamenti e a mio fratello Calderone dice per tutto il periodo fino al 70 credo che la mafia non domandò più nemmeno il pizzo ai bottegai non si interessò più di niente stava nascosta stava stand by quando poi finirono le pene e spiarono le pene sono usciti è uscito Gaetano Badalamenti si fece poi il processo dei 114 appunto 114 che nasceva da quello summit di cui vi accennava Cianferoni l'altro giorno a Milano non fu cosa da poco perché Gaetano Badalamenti era a Sassuolo al soggiorno plegato nei pressi di Bologna e per questa riunione pretese che venissero Buscetta Totò Greco Ciaschitello che venissero Peppino Calderone da Catania Paccarè e tanti altri e li fece venire dal Venezuela Don Antonio Salamone li fece venire dal Venezuela ecco qual era il suo potere contrattuale la sua potenza di capo assoluto del Cium era quella era la sua potenza e allora nel processo dei 114 dice ma fu una oserei dire una barzelletta perché Peppino Calderone fu arrestato il 13 luglio del 1970 quasi alla fine del 71 venne scarcerato lo stesso Gaetano Badalamenti avevano indubbiamente grande libertà di movimento se si potevano permettere da Bologna andare a Milano c'era una grande permeabilità negli istituti carcerati nelle case che allora si chiamavano carcere non case circondariali c'era una grande permeabilità lo sappiamo lo abbiamo letto nei processi ce l'hanno riferito le guardie ci hanno detto come avvenivano i colloqui voi avete fatto il processo Golden Market l'avete sviscerato questo argomento dei colloqui come avvenivano e chi partecipava e come in carcere entravano anche persone che non erano familiari ho sentito dire delle cose delle cose enormi entravano armi entravano giocattoli entravano dolci entrava tutto quello che si voleva al carcere dal carcere usciva anche tutto quello che si voleva uscivano gli ordini e se Gaetano Badalamenti nel 70 era ancora detenuto come dice io non lo ricordo per la verità e il processo non l'ho trovato più perché ho buttato tutto e Peppino Calderone era pure esso detenuto e faceva i colloqui con Antonio Calderone con il fratello e che cosa dice io andavo a colloquio ogni settimana da mio fratello mio fratello mi diceva che cosa dovevo rilassare quali erano gli ordini mettici la cavatta a Silvestre mettici la cavatta a Silvestre lo ricordate e portavo allo stesso tempo notizie sui fatti del giorno sulle cose che avvenivano in Sicilia le andavo a riferire e facevo il colloquio con Danino Badalamenti anziché con suo fratello con Peppino Calderone erano la stessa cosa perché Peppino Calderone era il capo e poi da questo dalla sua morte ne è nata la defenestazione di Gaetano Badalamenti e allora dicono Peppino Calderone lo ricorda perché più avanti negli anni e ha vissuto meglio dall'interno la vita dell'associazione per essere il fratello che conviveva con il fratello appunto Peppino Calderone da Catania e lo dice lo riferisce e l'unico che senza mezzi termini e con sicurezza c'era un diratto dopo la pace e il silenzio della guerra di mafia del 63 c'erano questi tre personaggi mio fratello Peppino che era il segretario per tutta la regione e il presidente della commissione c'era Gaetano Badalamenti c'era Stefano Bontà Luciano Liggio non ne parla non ne parla qualche altro non mi mentisco e voi forse sicuramente lo sapete qualche altro ha messo Luciano Liggio come partecipe del triunvirato che si costitui dopo dopo la sagge dopo la guerra di mafia del 63 si ricostitui di quest'organo che fu grosso modo lo potremmo definire con termini i nostri civili che fu la costituente che fu la costituente dell'associazione mafiosa che stabilì le nuove regole e inventò la commissione provinciale regionale ecco tutto qua è il segreto è tutto questo lo abbiamo letto lo abbiamo scritto lo sappiamo lo conosciamo io ho vissuto queste cose perché mio padre era avvocato quindi a casa mia erano di casa non si vuol dire tutte queste vicende tutte queste morte ammazzate tutte queste cose tutti questi processi erano di casa le ha presi subito ben quell'arte e allora perché Luciano Liggio voi avete visto anche il film che è stato fatto il capo dei capi sicuramente lo avrete visto avete visto che in un angolino nella piazza c'erano dei ragazzi che guardavano e commentavano quello è Tachino Badalamenti quello è Masino Buscetta però stavano fuori non entravano non avevano titolo come non lo aveva nessuno di questi collaboratori che voi avete esaminato sbagliando un tassello mancando un tassello non avete pensato di interrogare il grande collaboratore di Stefano Pontate e il grande pentito che era Totuccio Contorno di cui c'è traccia in un interrogatorio dal dottor Gino poi ve lo dirò quando ci penso così Pennino Brucia Montagna era il grande braccio destro di Stefano Pontate ed era anche il più vecchio di tutti questi è entrato per prima prima di Marino Mannoia prima di Grado e prima e prima di Emanuele D'Agostino e prima di tutti gli altri che era veramente il braccio destro di Stefano Pontate conoscitore della vita e dei miracoli di Stefano Pontate vi è sfuggito nessuno ve l'ha chiesto non lo avete esaminato è un collaboratore di giustizia notorio quindi questi collaboratori di giustizia e lui dice andavo in carcere ricevevo gli ordini da Tanino Badalamente andavo in carcere e portavo la stampa la cronaca a Tanino Badalamente c'era il triunvirato gli altri collaboratori Franco io il nome richiesto non sono riuscito l'uomo di Altafonte Franco di Carlo eh? di Carlo Franco di Carlo eppure antico del mestiere c'era una commissione provinciale dice Luciano Liggio erano quei tre Luciano Liggio era un organo consultorio non veniva mai consultato quindi è anche messa in dubbio la partecipazione di Luciano Liggio all'organo all'organo deliberante all'organo di potere della dirigenza all'organo di vertice che equivarrebbe alla commissione provinciale di Cosa Nostra mette in dubbio anche questo gli altri erano tutti giovani giovanissimi sono entrati Mutolo nel 75 Marino Magnoio nel 76 ma sulle date non prendo appunti perché sicuramente quelli che le do io sono sbagliati e tutti gli altri Naimo che è stato l'ultimo di questa cortata nessuno aveva l'età nessuno faceva parte né del cirugrato né dell'associazione né di Cosa Nostra che allora fu inventata con la Costituente nessuno ne fece parte nessuno aveva titolo né per partecipare ma non erano uomini d'onore quindi non avevano niente da partecipare potevano stare a fare i laggiungoli privati nei loro rioni a rubare collanine a rubare radiolina nell'automobile questo era il loro mestiere questa è l'allevatura di questi personaggi non avevano titolo non erano ammessi quindi riferiscono tutti come noi diciamo giudici popolari del relato cioè per avere sentito dire da altri e allora bisognerebbe fare un'indagine psichica sul referente evidentemente Emanuele Lagostino era un esaltato se è vero come dice Naimo era uno che raccontava a tutti era un'amica agliacice urgentemente immediatamente sfornava ho partecipato alla sciaggia di Viale l'altro ho preso Mauro ho fatto il monicidio ho fatto madonna mia che soggetto pericoloso soggetto pericoloso con la lingua perché in queste sue c'erano in queste sue affermazioni c'erano anche le vanterie c'era la spocchiosità si voleva sentire grande si faceva grande io non è che sto mettendo in dubbio però che ha stato avversato Mauro De Mauro attenzione non sto mettendo questo ma dico nella modulazione del racconto quindi l'indagine psichica per valutare il soggetto referente per valutare il collaboratore c'era gente che si stava chiusa si faceva l'omicidio e non bisognava più parlarne questa era la regola c'era gente invece che si vantava gente che millantava di aver fatto di aver scalato le montagne gente che e poi sul dato concreto nulla sanno riferire nulla sanno riferire il pubblico ministero parlava di convergenza del moltefice in punto di dichiarazione dei collaboratori di giustizia ma dov'è la convergenza del moltefice la convergenza del moltefice è sul mandante di questo omicidio lasciando stare io ho finito con il campo politico col delitto di stato ora facciamo il processo come siamo abituati a farlo sulle prove e sugli indizi perché questo processo è un processo iniziale quindi è d'obbligo la causata se no non si può risalire né al mandante né al mandante quindi è d'obbligo stiamo facendo il processo all'antica come lì abbiamo sempre fatto l'imputato i verbalizzanti i collaboratori di giustizia lasciamo stare la stampa la politica le ingerenze gli interessi che non trovano che non trovano posto in questo processo perché non hanno non assurgono a nessuna dignità nemmeno di indizi ma restano chiacchiere restano opinioni più o meno fondate ma che nessun contributo hanno avuto per la formazione della prova che sono ai limiti della mi sfuggi la parola che sono ai limiti della utilizzabilità ai fini del decidere quindi la convergenza del mortesimo e dei collaboratori di giustizia è quale? vogliamo cominciare dal principio Calderone disse questo Certo Gaetano Badalamenti disse una volta uscito dal carcere dopo la quiescenza dal 63 per circa 7 anni bisogna fare scruscio bisogna mettere bombe bisogna ammazzare bisogna far sentire e far vedere che la mafia è tornata che noi siamo qua dobbiamo mettere e inquadrare la popolazione dobbiamo rinquadrare la popolazione che ormai dopo tanti anni non era più avvezza al dominio e alla sovrapposizione della mafia ma si pensò di mettere per questo per creare allarme delle bombe fu portata una bomba a Catania a Peppino Calderone da un palermitano fu messa la bomba al palazzo di giustizia e esplosa per fortuna non causò vittime a Natale del a Capodanno del 1970 a Palermo c'è stato pure gli attentati dinamitardi alla regione siciliana furono arrestati e condannati due persone a piccolissime pene il padre e il figlio oltre a questo non è successo niente questo è tutto il rumore questo è tutto quello che si prefiggeva a Gaetano Badalamente questo è tutto quello che si prefiggeva a Capodanno si racchiudeva in questi due attentati dinamitardi erano due bombe dinamitardi due bombe rudimentali quella di Catania ne scoppiò solo una quella del palazzo di giustizia le altre erano inefficienti erano delle semplici latte a quanto pare che non contenevano manco l'innesco e allora bisogna ammazzare la polizia e carabinieri bisogna buttarli a mare ma che cosa è stato fatto nel 70 e negli anni successivi niente che cosa è successo questa rivolta questo colpo di stato questo reimpossessamento da parte di Gaetano Badalamenti e perché si riferisce solo Gaetano Badalamenti e gli altri chi erano dove erano chi erano gli altri dove erano non se ne parla parlava solo Gaetano Badalamenti Gaetano Badalamenti era il capo effettivamente parlava solo lui non consultava gli altri non consultava nessuno perché si parlò anche di omicidio di giornalisti e c'è un passo dove si dice Luciano Liggio Gaetano Badalamenti lo mandò da Don Peppino Calderone era vaticante lo mandò a Catania dove si fermò per due anni fino agli arresti dei 114 che colpirono Don Peppino Don Peppino Calderone Luciano Liggio appena arrivò disse bisogna ammazzare immediatamente il giornalista fa perché dice perché ha pubblicato una fotografia dove mette in risalto i miei occhi Don Peppino si mi sa ridere nella sua saggezza e ha fatto bene perché disse guarda noi qui queste cose non le facciamo quindi Gaetano Badalamenti non aveva niente da ammazzare nessun giornalista da ammazzare perché senza il consenso degli altri due membri non aveva niente da fare e vi dai il segno e la prova che Luciano Liggio non faceva parte del triunvirato se è vero come è vero come riferisce il collaboratore fratello Antonio Calderone chiese a Peppino Calderone ci ammazziamo dice no queste cose non si fanno perché se dovessimo uccidere tutti quelli che parlano male di noi o che ci fanno i capelli grossi o che ci fanno la testa piccola o che ci fanno una cosa dice noi chiuderemmo dice sia i giornalisti che i giornalai dice non ci sarebbe più dice nessuna possibilità ecco quindi vi do il segno del triunvirato vi do chi è che comandava vi do le prove ricavandole dalle argomentazioni che vi sono state prospettate ci troviamo nel pieno triunvirato che fu la costituente per la riorganizzazione dell'associazione mafiosa ma se le bombe furono messe a capodanno del 1970 Mauro De Mauro era stato segrestato il 1416 non ricordo bene del 1970 ancora prima quindi quindi non rientrerebbe in quel processo del rumore che bisognava fare a mio avviso che abbia potuto scoprire Mauro De Mauro nei riguardi della mafia non troviamo articoli di stampa in questo senso da parte di Mauro De Mauro anzi fu proprio il periodo in cui egli fu trasferito dalla cronaca allo sport sono stati interrogati tutti i giornalisti ma come? che è una punizione? no il giornale loro era debole nello sport bisognava bisognava aumentare bisognava che fosse diretto da una persona da un giornalista più importante più capace per impingare le casse del giornale allora io stavo veramente a mal partito mi dice Antonio Calderone che Stefano Bontate aveva un grande odio nei confronti di Mauro De Mauro aveva un grande odio e lo fece uccidere dice e lo fece uccidere sono in contrasto ancora i collaboratori di giustizia sul luogo di sepoltura le modalità di uccisione e sul luogo di sepoltura di Mauro De Mauro Nino Badalamenti sostituto e cugino di Cinesi pure sostituto di Gaetano Badalamenti rivela a di Carlo quindi è una una relazione non di primo grado di secondo di terzo grado non del relato di prima mano dice c'ero io dice che aspettavo lì che aspettavo lì che portassero Mauro dice l'hanno ammazzato dice che c'entra dice tutto il resto dice l'hanno ammazzato Stefano Bontate dice sei stato seppellito nella sponda del fiume Oreto nella parte guardate il particolare nella scarpata che è demaniale perché la scarpata dell'autostrada o del fiume è del demaniale cosa simile riferisce Mutolo per averla appreso a sua volta con modalità diverse ma l'ha appreso che era stato Stefano Bontate a farlo rapire a farlo uccidere e a seppellirlo pure in un altro posto lì vicino a Santa Maria di Gesù Marino Vannoia non poteva essere da meno non era uomo d'onore poi senti dire da notizie da mezze frasi a spizziche bocconi senti dire che nella scarpata del fiume Oreto dove c'è il bar Settebello credo che ci sia ancora c'era il cimitero della mafia della famiglia di Santa Maria di Gesù di Stefano Bontate il cimitero della mafia Grado con Stefano Bontate dice che erano un colpo e un animo come si dice due colpi e un'anima dice che non sapeva niente tanto per cominciare non sapeva niente ma questo lo approfondirò nei dettagli fu seppellito nel giardino della moglie del ministro Giovanni Gioia ministro della Marina Mercantile che il terreno era perso abbandonato che il padre e il suo ce l'avevano coltivato per tanti anni ma è che l'ultimo collaboratore le azzecca tutte naiva poi l'antipodo di Santa Maria di Gesù lo colloca a Fondamaria a risultare nella proprietà e dice c'è madonia ecco perché lo va a collocare l'antipodi in un pozzo questo non fu scavato quindi proprio è attendibilissimo proprio Naimo le azzecca tutte è attendibilissimo sul luogo sulle persone la corte ha acquisito il verbale è proprio in sintonia si da essere una corrispondenza d'amorosi senzi e allora dov'è questa convergenza la convergenza sapete su che cos'è che l'omicidio lo volle lo fece eseguire Stefano Bontani e come lo fece eseguire senza informare il ciumirato l'episodio lo si ricava perfettamente dal racconto di dottore Gioettino Pennino quando dice accompagnai salvo da Pino Greco Scarpozzeda all'Aspra quando poi lo accompagnavo di ritorno rimase entusiasta e mi disse dice questo ragazzo ha il coraggio proprio dice è l'atteggiamento di Stefano Bontani dice decide autonomamente ed esegue Stefano Bontani e allora c'è di sano che Stefano Bontani non informò nessuno del ciumirato c'è niente di sano c'è niente di sano che agli altri partecipanti del ciumirato non furono informati c'è una sentenza ben precisa che dopo tanti anni di sbattere come una palla da tennis nel muro siamo riusciti a ottenere alla corte di Cassazione la sentenza lì bisogna che ma questo in termini in termini di commissione provinciale ancora noi qua non ne abbiamo col tempo commissione provinciale bisogna che i capi mandamento che compongono la commissione impediti a partecipare alla riunione deliberativa vengono prima informati dai reggenti e facciano pervenire in tempo utile il loro consenso all'esecuzione alla deliberazione omicidale quindi come lo considerate voi Rina Salvatore come esecutore e nessuno dice Gianna e Naimo vabbè ma Naimo io manco lo calcolo Nessuno di quelli che hanno parlato del prelevamento e dell'omicidio dice c'era Salvatore Rina Salvatore Rina c'entra perché si vuole giocare attraverso la commissione Luciano Liggio se ne andò via da qui è stato due anni a Catania poi se ne andò a Napoli poi se ne andò lasciò lui come sostituto come reggente si vuole arrivare a Rina attraverso questo metodo questo metodo induttivo o deduttivo ma nessuno dei collaboratori che si considerano tali disse mai me lo disse partecipò alla riunione partecipò all'esecuzione anche come semplice spese ovvero come concorso morale si è compiaciuto successivamente che avevamo liberato Palermo e la Sicilia da Mauro De Mauro perché potrebbe essere come voi mi insegnate un consenso tacito o un consenso sarebbe venuto o un rafforzamento dell'altrui volontà i giudici togati queste sentenze questa giurisprudenza la conoscono molto bene meglio di me sicuramente e allora che vestito gli mettiamo a 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 che vestito gli mettiamo dice e questo è forale Emanuele d'Agostino frequentava il circolo della Stata e forse anche anche Mauro De Mauro Mauro De Mauro domandava informazioni domandava notizie è vero non è vero si sono conosciuti hanno intrattenuto rapporti di amicizia di confidenza è tutto dubbio è tutto incerto nessuna certezza c'è in questo processo proprio così Mauro De Mauro gli abbia chiesto qualche informazione pericolosa che sottendeva che sottendeva un suo pensiero e allora Emanuele D'Agostino si è preoccupato lo andò a riferire al suo capo Stefano Bontade e qua l'architetto e organizzò tutto e lo fece sequerciare Emanuele D'Agostino andò a prelevarlo sotto casa non secondo le modalità che vi dice l'ultimo collaboratore di giustizia Upicirillo Ninuzzo Cicciuzzo finiva Cozzù colpo di rivoltella in fronte la 600 500 dove lo misero lo buttò noi abbiamo due testi certi tre testi certi la famiglia De Mauro testi oculari che non possono essere scavalcati da nessun'altra prova è la prova generica la regina delle battaglie le altre sono congetture sono ricostruzioni sono opinioni sono suggestioni le modalità del sequestro come le racconta come le racconta Naimo non coincidono minimamente la famiglia De Mauro dice tre soggetti e mio padre quattro che rimase al volante non che fu preso minacciato colpo di rivoltella come dicevo buttato la famosa barzelletta Giuseppe Loreto no mi chiamo Mauro De Mauro Giuseppe Loreto Giuseppe Loreto la storia di donne hai disturbato portato là niente quindi è stato preso Mauro De Mauro sotto la minaccia delle armi o fu preso con inganno da Emanuele che presupporrebbe un rapporto di amicizia o di conoscenza nella sede del del circolo della stampa non si sa sta di fatto che Mauro De Mauro restò alla guida nonno fece e non disse niente la figlia lo vedeva non fece e non disse niente gli è sembrato triste ma non fece niente nella guida se a me mi dovessero sequestrare e mi lasciano al volante dell'automobile state pur certi che passati cinquanta metri li vado a sbattere nel muro sotto un'altra automobile non sono così accondiscendente valutatele le cose in profondità quindi secondo me non fu nemmeno sotto la minaccia delle armi sarà stato un marchigegno un allettamento una cosa qualunque non violenza non colpo di calcio della rivoltella sulla fronte o sulla nuca non buttato e bistrattato perché i familiari lo hanno visto gli passo davanti alla fine si può darsi che mio padre non reagì perché ci pareva che mi potevano fare un male ma questo lo dice dopo perché prima pensavano che erano amici quindi Emanuele D'Agostino dove lo portò lo portò al baglio di Santa Maria di Gesù di proprietà di Stefano Bontà e dice che c'era Stefano Bontà questo lo dice però non Emanuele D'Agostino questo poi lo dice Grado Grado Gaetano che erano due corpi un'anima però però seppe di questo sequestro quando l'ha letto sul giornale hanno dato Stefano Bontà e che gli disse vediamo vediamo se combacia con la deliberazione di Gaetano Badalamenti dice ma come dice si era detto avevamo stabilito che di queste cose non se ne dovevano fare di questi omicidi e per giunto omicidio eccellente dice tu vai a fare l'omicidio dice tu vai a ammazzare il giornalista Mauro De Mar non è che lo amasse ma era una questione di regole perché le regole evidentemente erano proprio queste non fare scruccio non fare rumore evidentemente le regole erano si meravigliò e Stefano Bontà ci dice dava fastidio dice scriveva sempre dice ci attaccava ci faceva due corpi un'anima grado ha appreso a quel momento che al sequestro di Mauro De Mauro c'era suo fratello Dito che in conseguenza e anche alla sua insaputa fu punciuto e fatto uomo d'onore indica un'altra persona Giovanni Uppacchione Teresi Mimmo Teresi come partecipe al sequestro lo uccisero lo seppellirono con quali altre dichiarazioni combaciano queste con quali altre dichiarazioni fanno da cornice o da corona a questo cerchio dov'è la convergenza del morte io naccio io naccio qui ci sono le carte voi avete il processo voi lo avete fatto io non c'ero io l'ho dovuto studiare a spombattuto però io i processi li so studiati però i processi li ho fatti io ho un'esperienza ho un'età anche so come dove vanno cercate e come vanno interpretate le cose perché io vi dico che attraverso la dichiarazione attraverso il racconto di grado vi dico che evidentemente se c'era l'ordine che quel tipo di reati non si dovevano fare e se chiamo in causa Gaetano Pennino che mi disse che dice che Stefano Bontate era capace ed era in condizione di agire autonomamente senza nulla chiedere a nessuno io ho chiuso la partita signori io ho chiuso la partita vi darei un altro milione di parole sui giornalisti sulla politica perché io in parte l'ho anche vissuta perché ero giovanottello lo sentivo dire non che mi interessassi di politica ma qualche cosa la sentivo dire qualche altra cosa l'ho studiata qualche altra cosa l'ho vissuta e allora è naufragata naufragata anche questa pista attraverso i collaboratori di giustizia per giungere alla responsabilità e alla colpevolezza di Rina Salvatore naufragata anche questo non perché sono dichiarazioni di terza mano dichiarazioni del relato ma perché non c'è niente da fare non c'è niente da fare non combacia non si integrano non si integrano in un racconto in una ricostruzione unitaria che deve essere fatta con l'atto finale di questo processo che è la motivazione della sentenza non si integrano oddio se si vuole dire che Totorrina con danni all'ergastro non è a tanto una più una e meno se si vuole dire però non è degno non è degno della toga che portiamo della toga che portate e sono sicuro che questo non è il vostro metodo perché vi conosco bene da tantissimi anni quindi neanche sotto questo profilo si può indulgere su una petizione di condanno io dico che non è che non c'è causale o perlomeno non è né il colpo di stato né il ribadisco del caso Mattei che dalla morte siamo nel 70 era caduto precipitato l'aereo 8 anni prima nel 62 vale a dire quindi erano cose vecchie non aveva niente di nuovo da trovare e da appropriarsi Mauro De Mauro di nessun segreto perché lui era stato presente alla visita di Enrico Mattei in Sicilia non aveva bisogno di andare a chiedere si sono fatti anche processi con giornalisti per diffamazione ma io mi voglio soffermare un attimo su quel signore mi dica il nome Zurlino stavolta quello che dice che è scritto un libro ecco i giornalisti poi alla fine scrivono i libri sugli appunti sui loro articoli alla fine scrivono ora i giornalisti sono tutti scrittori Bruno Vespa per grazie a Dio scrive un libro l'anno che riceve lì nel suo salotto le persone alla fine fa il resoconto mi dispiace molti pubblici ministeri e alcuni giudici molti magistrati e alcuni giudici hanno preso il cattivo vezzo di scrivere dei libri sui processi che hanno per le mani o sui processi che sono nella fase di istruzione voi lo sapete non ho bisogno di aggiungere altro almeno si abbia la bontà di aspettare che il processo sia chiuso non che gli atti di istruzione vengono letti dalla popolazione nel romanzo mentre il processo ancora è nella fase delle indagini preliminari queste sono cose che assolutamente non si fa che distraggono il giudice che tre giorni alla settimana va in giro per l'Italia dice per fare la pubblicità del libro che ha scritto voi queste cose le sapete perché fate parte dell'ordine giudiziario e quindi le sapete meglio di me ma al di fuori del diritto no scusate stavo parlando del mago Zurli che scrisse il libro in seguito dove dice che usò dei nomi il commissario Anania e il commissario Anania gli era rimasto in testa a lui che non era commissario Anania era il tenente Anania il sottotenente di cavalleria Anania che ha partecipato come gruppo granatieri di Sardegna alla rivolta in Calabria e mi sono morti tre giovani soldati per colpa di questi signori di questi signori che facevano gli attentati al treno e forse qualche maldi in canellata in testa e c'era scritta Anania ecco perché sa Anania uno di Milano conosce la bocca di Anania ecco perché se lo ricordo a me noi comunque non usavamo Manganelli Manganelli usava solo la polizia noi avevamo solo armi da fuoco armi da spara che se ci avessero molestato eravamo autorizzati a sparare perché eravamo un gruppo tattico in difesa dello Stato sulla loro leader Reggio Capoluogo che poi fece la cosenza non come dice quello a Catanzaro quindi che mi deve insegnare Zurli che mi deve insegnare che mi deve dire Lupis che lo cercavo per tutta Pizzo Calabro che mi deve insegnare che andava a tirare i sassi nei finaccini del treno in corsa che mi doveva insegnare che mi deve dire quindi non sono nessuno di questi argomenti che abbia scoperto o non abbia scoperto non posso dire niente non potete dire niente posso fare solo ipotesi ha trovato ha scoperto è lì che ha indagato è lì che ha trovato è qui è là si possono solo fare ipotesi perché questo è il materiale del processo signori miei possibilmente di fatti questo processo dal 70 ora è stato riproposto in tutta la salsa ed è stato sempre archiviato ed è stato sempre archiviato l'accusa ha avuto non so che cosa ha letto tra le carte come è pervenuto come si è formato questo convincimento ha portato questo imputato a giudizio Totorrina è da quando è stato arrestato è ancora prima che è conosciuto alle forze dell'ordine che prende i processi qual è il motivo qual è la causa scriminante della sua della sua incolpazione io non la vedo perché Totorrina non è che sta nascendo ora e ai processi non sta nascendo ora e alla notorietà della crona che non sta nascendo ora com'è che non ci hanno pensato prima a Totorrina qual è l'elemento scatenante che ora si è verificato io qua non ne trovo lì nelle vostre carte non lo trovo nemmeno per quanto riguarda la sentenza emessa da questa corte in diversa composizione dell'assaggio di Viale Lazio e io l'ho temuta vi dico la verità l'ho temuta e questa corte ha giudicato Rina nell'assaggio di Viale Lazio come appartenente alla triunvirato nel 1969 qua siamo nel 70 quindi se c'era nel 69 nel 70 c'era dentro con le mani e quei piedi ma qui argomenti di questo genere che fosse partecipe o vicino o a qualunque titolo al triunvirato elementi non ne abbiamo non ne troviamo Cianferoni vi ha ricordato un passo della sentenza per cui la mia preoccupazione di una reiterazione di condanna sotto il profilo dell'appartenenza al triunvirato è cessata in me e non entro nell'argomento come non entro neppure nell'argomento della utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese solamente in anni prossimi contrariamente a quanto prescrive la legge istitutiva dei collaboratori una cosa ve la devo dire sui collaboratori di giustizia che assegna un termine dall'arresto dall'inizio o dalla dichiarazione di intenti a collaborare assegna un termine stretto al collaboratore perché quantomeno annunci tutti i fatti criminosi a sua conoscenza ai quali lui ha partecipato la cosa che vi dovevo dire è questa io l'ho capito subito che Naimo non era attendibile c'è un passo della prima dichiarazione resa al pubblico ministero in Grovia pubblico ministero gli dice dove ti disse Emanuele D'Agostino che prelevarono Mauro De Mauro c'è l'uditore un Grovia gli dice siamo fuori strana sapete quale fu la risposta di Naimo pubblico ministero lo sa una volta mi pare che ha acquisito il verbale allora che fa sono escluso dal programma di protezione se noi interrogassimo domani o dopodomani Naimo state pur certi che vi dirà io ho visto sparare a Gaetano Salvatore Rina mentre sparava a Mauro De Mauro perché deve ricevere il premio è quello il suo traguardo è quello il suo scopo c'è molta trepitazione in seguito alla contestazione ah ma allora siamo fuori strani ah dottore allora che fa questo programma di protezione non ci posso entrare questo era il suo scopo signore non siamo né ingenui né bambini questo è l'intento dei collaboratori di giustizia ma che perlomeno perlomeno che dicano la verità che dicono la verità perché al di fuori di questi giudici poi ce n'è uno uno più grosso e più importante che tutto vede e tutto sa purtroppo la legge degli uomini è fatta secondo il nostro libero convincimento si sono convinti che era un omicidio di stato che era un omicidio politico però niente c'è che lo possa suffragare queste cose se c'è il processo vastissimo se la corte ritiene e mi chiede di approfondire qualche argomento sulla questione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o di scendere nei particolari me lo dica perché io vorrei trasvolare vorrei trasvolare per non annoiarvi per non annoiarvi perché voi li avete vissuti e voi le sapete quindi io vi ho parlato di qualche giornalista vi ho parlato per il resto mi affido alla vostra conoscenza delle dichiarazioni rese dai giornalisti e dagli scrittori che evidentemente giornali e libri non possono far parte del materiale probatorio di un processo perché sono delle ipotesi sono delle idee sono dei convincimenti del giornalista vi posso dire solamente una cosa prego vi posso dire solamente una cosa io ho fatto diversi processi di omicidio di giornalista l'ultimo in ordine tempo è stato quello di Mauro De Mauro di Mauro De Mauro è chiesto di Mario Francesco non c'è stato un testimone che non fosse una persona o collaboratore di giustizia non c'è stato né un giornalista né uno scrittore né nessuno è stato ammesso ad esprimere o a raccontarci il suo pensiero il suo convincimento o l'idea che si fosse formato nel corso della sua attività professionale e Mario Francesco era un giornalista era un giornalista molto serio era una persona che lavorava seriamente come dovrebbe lavorare un serio giornalista che ha l'obbligo di informare al più possibile al più possibile i suoi lettori con queste brevi considerazioni signore della corte io chiedo le conclusioni mi pare che sono state già assunte da Gianferroni si associa ovviamente a quello già chiedo la soluzione la soluzione ampia di Salvatore Rina per non avere commesso il fatto grazie avvocato grazie a voi